Sì, è stata una bella partita, siamo riusciti a vincere 3-0 contro una squadra che cerca punti per la salvezza, un campo molto difficile, quindi non era affatto scontato. In questa fase del campionato queste sono le partite peggiori da affrontare e noi siamo stati bravi, lucidi, soprattutto nei primi 2-7 perché siamo entrati in partita fin da subito, abbiamo commesso, penso, zero errori nei primi 2-7 e siamo stati bravi. Nel 3-7 invece era normale che loro provassero a fare qualcosa di più, siamo stati bravi a rimanere lì, aspettare il nostro momento e quando è arrivato il nostro momento gli abbiamo dato la batosta finale, quindi bravi a tutti e fino alla fine!